Buongiorno a tutti e bentrovati amiche, amici, interisti e non interisti, si accende il mercato ragazzi ed ero tanto che non facevo un video corto e ve lo ripropongo, poi veramente ne parleremo anche in live con i nostri ospiti ma questo bisognava farlo, Juevlaovic è fatta e Gosenz è molto molto vicino all'Inter sembrava un mercato dormiente, un mercato invernale, praticamente letargo invece le big del campionato piazzano dei colpi andremo in questo video a fare un'analisi con i pro e i contro di queste operazioni e veramente molto caldeggiati i vostri commenti che rischiano comunque di cambiare alcune dinamiche del campionato un campionato che vede l'Inter saldamente in testa ma attenzione perché il colpo Vlaovic anche in prospettiva futura potrebbe essere un grosso segnale da parte della Juventus andiamo quindi a vedere in queste slide, due slide, quelle che sono le considerazioni che vi pongo e che ovviamente a cui spero a voi diate un commento, dite la vostra Dusan a Torino, cosa cambia per la Juventus? Innanzitutto è un'operazione che dovrebbe essere addirittura d'arrivo, l'ufficialità addirittura tra poche ore o comunque a pochi giorni visto che sono già state prenotate le visite mediche per Vlaovic a Torino allora Dusan è uno tra i top centravanti under 22, meglio di lui chi c'è? Oland, poi facciamo altri nomi, in Italia sicuramente Vlaovic per questo segmento di età è superiore ai vari Scamacca ai vari piccoli, ai vari Luca, è un giocatore che il primo anno da titolare la Fiorentina ha fatto più di 20 gol quest'anno ne ha già fatti 16 quindi può benissimo superare ancora una volta i 20 è un giocatore che è completo dal punto di vista del bomber della di rigore, dell'identikit del bomber di rigore perché ha potenza, ha una buona tecnica, riesce a difendere bene il pallone ma soprattutto riesce a segnare in ogni maniera anche con lo scavetto abbiamo visto, col destro e col sinistro, è un rigorista anche eccellente quindi è un colpo che la Juventus fa e che dà un segnale secondo me molto forte anche alla concorrenza ecco, io da interista vi dico la verità, uno come Vlaovic all'Inter l'avrei voluto subito perché sono molto contento di Dzeko, sono contento anche di Lautaro anche se è in un periodo di apparnamento però Dzeko ha 36 anni, Lautaro non è sempre costante e concreto, sottoporta anche perché fa un grosso lavoro di sacrificio in fase di non possesso e avere un giocatore del 2000 come Vlaovic all'Inter secondo me sarebbe stato veramente un grosso colpo per il futuro ma anche per il presente la Juventus invece batte la concorrenza, si parla di 75 milioni totali compensivi di bonus in un'operazione da 65 più 10, poi vedremo le cifre quando ci sarà l'ufficialità e discuteremo anche delle modalità di pagamento del contratto che la Juve farà a Vlaovic l'altra cosa positiva secondo me è che uno come Vlaovic potrebbe sulla carta ragazzi valorizzare anche altri attaccanti della Juve come lo stesso Dybala questo è un punto di domanda che vedremo anche nei contro io voglio proprio vedere Vlaovic al centro dell'attacco perché la Juve ha in Morata e Dybala due giocatori che non sono delle vere e proprie prime punte lo sappiamo, l'unica prima punta vera e propria ma che può giocare anche da esterno è Can Vlaovic porta in sé un bottino di gol e di presenza in area determinante vedremo se ne beneficerà anche uno molto tecnico come Dybala che potrà in qualche modo girargli attorno quali sono i contro di questa operazione? noi abbiamo sempre visto Vlaovic nella Fiorentina io l'ho seguito personalmente seguendo il campionato di primavera anche quando era titolare della primavera dei Gignati è sempre stato un giocatore dominante un giocatore che anche in primavera faceva vedere di essere di un livello superiore rispetto a molti altri centravanti delle altre squadre di giovani però chiaramente il salto in una grande squadra come la Juve dove Sarai, tra i virgolette, uno tra i tanti certo, per quello che viene pagato Vlaovic può essere già considerato uno dei top della Juventus però è del 2000, si troverà in uno spogliatoio con dei senatori che hanno vinto tanto e sappiamo anche alla Juve come ci siano delle gerarchie da rispettare importanti quindi vedremo come anche a livello di pressione il ragazzo che secondo me comunque ha una grossa personalità e l'abbiamo visto la Fiorentina quando risposa a suon dei gol anche alle critiche di qualche mese fa da parte critiche giustificate dei tifosi della Viola vedremo come si ambienterà all'interno dello spogliatoio con i compagni più vecchi chiaramente quello che secondo me è il punto principale di domanda è l'organizzazione dei giochi della Juve è vero che Vlaovic è un giocatore che alla Fiorentina era l'unico terminale offensivo però è anche vero che prima di venire alla Juventus chiaramente aveva un gioco che era finalizzato a lui, solamente a lui quindi lui aveva tutte palle disponibili tra l'altro le partite della Fiorentina ne ho viste alcune in alcune partite ad esempio anche contro la stessa Inter o contro la Juventus ci sono state delle partite in cui lui non ha visto palla quindi è un giocatore che bisogna vedere in un contesto in un'organizzazione di gioco diversa come quella che ha la Juventus che secondo me dal punto di vista del centrocampo ha abbastanza lacune quindi è una squadra che è in ricostruzione che secondo me prioritariamente dovrebbe pensare a ricostruire il centrocampo chiaramente però i giocatori come Quadrado come Chiesa quando rientrerà come Di Bala hanno una tecnica di base estremamente elevata quindi si possono anche tra virgolette creare delle occasioni senza passare necessariamente per un gioco organizzato però staremo a vedere io vi chiedo quale sarà l'impatto di Vlaovic alla Juventus ovviamente dite la vostra e agli interisti dico state rosicando oppure no la mia parere personale è che mi avrebbe fatto molto comodo vedere Vlaovic all'Inter però tutto sommato come sta operando adesso l'Inter andremo a vedere la prossima slide e quello che sta facendo l'Inter in questi ultimi anni mi lascia tra virgolette ancora tranquillo quindi questa è la mia opinione premesso che io Vlaovic all'Inter l'avrei preso subito subito per l'Inter la priorità a questo punto con il colpo Bob Gosens è la fascia sinistra Robin Gosens lo abbiamo detto anche quando facciamo il video sui terzini per me è uno dei migliori interpreti non solo in Italia ma anche in Europa del ruolo di quinto l'ha fatto con Gasperini alla Taranta ha fatto nelle ultime due stagioni più di 40 partite tra Coppa Italia, Campionato e Champions e più di 10-12 gol quindi ragazzi è un esterno a sinistro che va in doppia cifra conosce benissimo il ruolo il 3-5-2 di Gasperini che è diverso rispetto al 3-5-2 di Inzaghi però bene o male le mansioni che vengono chieste a Gosens possono benissimo essere anche adattate al modo di giocare di Inzaghi che è lo stesso modulo del Gasper bottino di goal in dotter abbiamo detto 10-12 gol ragazzi è uno che si inserisce senza palla mi ricordo un gol che fece a San Siro sfugando alle spalle della difesa è un giocatore che tira il volo un giocatore che si inserisce che segna anche di testa è un giocatore secondo me che ha una buonissima propensione alla fase difensiva non solo perché è difficile da saltare uno contro uno ma perché è anche bravo nelle marcature preventive e questa è una cosa molto importante ragazzi ho visto dei confronti ad esempio con Teo Hernandez che è devastante quando palla al piede ha tanto campo Marchevala carica gli avversari di cartellini gialli ma spesso va anche alla conclusione segna tanti gol anche lui però rispetto a Gosens è un giocatore che ha veramente tante lacune in fase difensiva e giocando con una linea di difesa 4 queste lacune vengono in qualche modo anche nascoste Gosens secondo me a fase difensiva è veramente un giocatore molto molto affidabile poi è maturo nel 94 quindi quest'anno a luglio farà 28 anni ha già esperienze in A gioca anche nella nazionale tedesca questo è il momento diciamo migliore per Robin Gosens per fare un salto in una squadra che punta a vincere anche l'Atalanta per carità punta a vincere ma con l'Inter sicuramente ha ad oggi molte più possibilità di sollevare qualche trofeo quali sono i contro? innanzitutto il primo che quando noi parliamo di giocatori che vengono dall'Atalanta c'è sempre il dubbio questo giocatore fuori dal contesto Dea rende o non rende? vediamo ad esempio Conti che era un esterno destro fece tanti gol una stagione alla Dea gli fece quasi dieci poi comunque al Milan si è perso e non si è più visto oppure che sì lo stesso che sì che ci ha messo tanti anni per diventare un ottimo centrocampista come quello che abbiamo visto nell'ultima stagione al Milan lo stesso Gagliardini possiamo fare tantissimi esempi quindi quando prende il giocatore dall'Atalanta in quel contesto tattico e anche atletico con cui gioca la squadra di Gasperini ci sono sempre dei rischi connessi e poi la condizione fisica Gosens ha subito una lesione al bicipite femorale con uno strappo pare essersi ripreso ma è stato fuori diversi mesi per cui si parla di un suo ingresso ritorno in campo a febbraio vedremo metà febbraio certamente la condizione fisica atletica per un giocatore che fa della corsa con e soprattutto senza palla uno dei suoi punti di forza è un fattore da tenere in seria considerazione a mio avviso il colpo Gosens è un colpo ottimo anche perché si parla di poco più di 20 milioni di euro più bonus con un quinquennale da 2.5 milioni di euro netti a salire per il tedesco secondo me un prezzo buono per quello che si è visto nelle ultime operazioni fatte dalle principali squadre in Europa per me sì può essere l'interprete ideale per il pot Perisic io lo preferisco addirittura Costic che è più offensivo di Gosens ma è più vecchio e soprattutto non conosce il campionato italiano io vi chiedo dite la vostra ragazzi sotto nei commenti ci vedremo in live con i miei ospiti per discutere anche degli altri colpi di mercato quando il mercato sarà concluso quindi mancano pochi giorni intanto in bocca al lupo Stefano Sensi che andrà a giocare con Gian Paolo alla Sampdoria io vi saluto ragazzi buona giornata da Marco Zorro e state connessi che il calcio è il sale della nostra vita ciao ragazzi grazie a tutti i miei ospiti